4 nuovi personaggi in arrivo su squadbusters oggi parleremo di tutto questo prima di iniziare però un bel like, iscrizione e campanlina sono tutti e 4 personaggi ufficiali in realtà ho ben 20 personaggi da mostrarvi quindi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi dopo questa piccola pausa che finirà a fine luglio perchè sono in vacanza, tornerò ad agosto vi mostrerò tutto quanto ma oggi partiamo col vedere questi 4 personaggi e vi dico che sono personaggi ufficiali trapelati ufficialmente dal gioco che non sono nemmeno leak perchè il gioco stesso ce l'ha fatti vedere vi spiego subito come li ho trovati, come li ho visti e partiamo allora, tanto ma tanto tempo fa Super Ju un annetto fa pure di più ci fu la prima beta di squadbusters nella primissima beta di squadbusters potevi vedere molti più personaggi o meglio non potevi utilizzarli ma se andavi qua nella sezione dell'icona del profilo e andavi nella zona dell'emoticon dove adesso c'è il mazzo non vedevi 162 emoticon in totale ma ne vedevi tipo 250 questo perchè c'erano tipo 20-18 personaggi in più che sono davvero davvero un sacco e questo vuol dire che ogni personaggio aveva la propria emoticon all'interno del gioco infatti ho gli skin di ogni singolo emoticon di ogni singolo nuovo personaggio quindi ragazzi qualcosa di assurdo non vedo l'ora di mostrarvi tutto quanto ma andiamo a controllare una cosa infatti ogni singolo personaggio come possiamo vedere ha un totale di 4 emoticon dedicate facciamo ad esempio il mercante il mercante ha un emoticon qua un'altra qui la terza e la quarta ogni personaggio di squadbusters ha 4 emoticon dedicate infatti ragazzi ci saranno su per giù 4 per 18-19 arriviamo all'incirca 250 complessi emoticon e infatti sono andato a rivedere qualche vecchio gameplay qualche vecchio mio video sui squadbusters di due anni fa e si vedevano di già tutte quante le emoticon con tutti i personaggi che ancora devono essere all'interno di squad quindi partiamo e vi mostro subito eccoci nella primissima foto come vediamo già da qua ragazzi abbiamo il polletto che si ripete per ben 4 volte l'assaltatore pesante anche lui si ripete per ben 4 volte e poi abbiamo un personaggio che appare qua a basso cioè Pocho di cui avevamo già conferme in un mio vecchio video dove vi avevo confermato che sarebbe arrivato ma qua abbiamo la conferma delle conferme ecco le emoticon di Pocho tiene in bocca una piccola rosa proprio in stile un po' stile Pocho ovviamente e qua se andiamo un attimino di lato abbiamo altre 3 emoticon attenzione perché abbiamo un cactus cosa va a significare questo cactus? adesso lo scopriamo potrebbe pure parlare di Spike ma adesso ne parliamo ragazzi come vedete però queste qua sono le 4 emoticon totali di Pocho e quindi questo cactus, questo Spike sarebbe un po' strano visto che Spike dovrebbe avere di conseguenza altre 4 emoticon anche se vi confermo che non ci sono emoticon dedicata a Spike quindi secondo me questo cactus potrebbe essere o un riferimento all'arrivo futuro di Spike all'interno del gioco perché comunque Pocho e Spike vivono nella stessa zona un po' desertica oppure un cactus totalmente casuale anche se secondo me Spike c'entra sicuramente qualcosa come vedete qua abbiamo le emoticon di Pocho con la chitarrina Pocho sempre con la chitarra che suonano solo le mani ed eccoci al terzo personaggio di oggi perché al momento ragazzi abbiamo visto c'è Pocho, c'è lo Spike e abbiamo pure Leon esattamente Leon col suo shuriken qua in alto molto molto bello Leon con le calecca e Leon che è sempre con le calecca assurdo dopo vi mostro quali potrebbero essere le abilità di ogni singolo personaggio in arrivo su Squad Busters quindi come potrebbe infurire nel team come potrebbe utilizzare le proprie abilità lo scopriamo a breve comunque se andiamo un po' più in alto qua vediamo un'altra cosa che potrebbe essere la coda di Leon esattamente ragazzi la coda di Leon scendiamo un attimino e se vedete ragazzi qua abbiamo Corvo abbiamo esattamente Corvo Corvo è il prossimo personaggio che arriverà su Squad Busters ed è anche qua all'interno dell'emoticon quindi abbiamo Corvo che sorride chissà come si comporterà Corvo magari salta magari vola magari fluttua non lo sappiamo Corvo che piange e se andiamo qua a vedere meglio abbiamo un'altra pagina dove si vede tutto quanto molto molto più complessivamente abbiamo Pocho Corvo Leon Spike probabilmente e qua ragazzi vediamo altri emoticon di Corvo tra cui questa qua sopra con le tre spadine e questa qua sotto che è davvero davvero interessante perché è un Corvo skinnato tipo di giallo una specie di Corvo infuocato arrabbiatissimo che potrebbe essere una skin di Brawl adesso andiamo a vedere perché chissà se prendo uno spunto da Brawl o comunque come funziona tutto quanto vi ricordo ragazzi per rimanere aggiornati in questo periodo di pausa vi consiglio di andarmi a seguire su Insta mi chiamo Instanchili c'è il link in descrizione eccoci qua partiamo da Pocho quale potrebbe essere il compito di Pocho secondo me ragazzi Pocho farà sicuramente un aiuto di squadra e sarà un curatore quindi con la sua schitarrata di note potrebbe aiutare la squadra e andarla a curare ma allo stesso tempo essendo che sono note potrebbero stunnare magari tramite l'udito gli avversari e farli stare fermi per un po' di tempo magari quando utilizza l'abilità super della chitarra secondo me la rarità di Pocho potrebbe essere raro non credo comune nemmeno epico andiamo a vedere subitissimo ragazzi Leon dove è Leon? eccolo qua che ancora non l'ho sbloccato su Brawl fate lasciate stare il mio account di Brawl che è praticamente abbandonato a se stesso Leon Leon secondo me è uno dei quei personaggi che avrà abilità assurda e che cambierà totalmente il gameplay di squad perché potrebbe far diventare il proprio team invisibile per qualche secondo magari dopo aver letto qualche cassa o aver killato qualcuno è un'abilità assurda perché diventa invisibile gli avversari non ti vedono magari non ti possono nemmeno killare ed è una cosa assurda secondo me ogni nuovo personaggio che viene aggiunto cambia davvero davvero tanto il gameplay del gioco è rivoluzione un minimo in sé per sé il gioco vediamo Spike quale potrebbe essere un'abilità di Spike vi sarò sincero non lo so potrebbe essere o che lancia degli spuntoni o che lancia magari dei cactus in giro per la mappa e se ci passi vicino se ci attraversi se li tocchi ti rallentano o magari ti fermano per un tot di tempo un po' come su Brawl che quando lanci l'abilità di Spike se passi sopra il raggio del cactus ti rallenta e ti fa pure del danno un po' tipo avvelenato quindi secondo me potrebbe avere questa abilità ma parliamo di Corvo che lui è uno dei più fighi e dei più assurdi personaggi che arriveranno sicuramente su Squad Busters eccolo qua il nostro carissimo Corvo Sicario bianco assurdo Corvo che cosa fa? metto intanto la skin di Corvo quella classica secondo me può aiutare il team a saltare oppure salta solamente lui e lancerà queste cosine qua secondo me Corvo potrebbe essere un personaggio che va molto veloce perché comunque il personaggio di pace è molto veloce Corvo ma allo stesso tempo l'abilità di killare velocemente può tutto fare potrebbe essere tutto fare rarità epica un Corvo epico come lo potrei pure immaginare perché essendo molto forte come personaggio secondo me Corvo sarà assurdo ditemi nei commenti secondo voi come ogni personaggio potrebbe essere all'interno di squad e voglio mostrarvi però una cosa davvero assurda infatti potrebbe essere questo qui quindi una sua skin dedicata di un Corvo Fenice che si rianima infatti credo che Corvo magari può morire poi si rianima e diventa questo Corvo Fenice non so che dirvi detto ciò ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto un bel like iscrizione campanellina voletevi vedere se sono appena appare su accanto che sono più bello dell'altro fate l'appartamento per termine ci vediamo in un prossimo video su Codebusters ciao ciao tra qualche mese tra qualche settimana ciao